La raccolta firme è terminata e siete arrivati anche a portarle su in comune? Martedì mattina, l'altro ieri, abbiamo consegnato, ho consegnato le firme in comune, protocollate, contate 479, devo dire che è stato un bel risultato, potevamo fare di più sicuramente se ci fossimo allargati ad altri quartieri tipo Santorso che ha problemi di viabilità. Il numero è cospicuo, non è maggiore proprio per una scelta di non fare mucchio e di non chiamare raccolta anche altri quartieri che avrebbero comunque aderito. Queste rotatorie non sono solo pericolose per le biciclette e per i pedoni, sono molto pericolose, ma queste in particolare pericolose anche per le auto perché chi viene da Rosciano è costretto ad affacciarsi a causa di queste barriere fonoassorbenti che impediscono la visibilità per cui ti costringono al mattino ad affacciarti dentro la rotatoria. Ecco, cosa vi aspettate ora col peso di 500 firme? Un grazie lo voglio dire perché comunque sia è servito raccogliere le firme, grazie a tutti quelli che ci hanno dato una mano, grazie però tutto sommato anche all'amministrazione comunale che comunque sia ha preso atto di questa situazione. Non si poteva far finta di niente, in consiglio comunale il sindaco si è preso l'impegno di risolvere questa situazione e di fatto è stato comunque sia messo un limite dei 30 che ho paura che sia difficilmente rispettabile, comunque sia un passo è stato fatto. Io spero però che il decassamento avvenga in tempi brevi, perché? Perché comunque sia, come dicevo prima, i ragazzi, ma noi adulti abbiamo l'esigenza di muoverci in bicicletta e a piedi per cui non vorrei che nel frattempo facendo i debiti scongiuri succeda qualcosa di brutto, per cui grazie però veramente fate in fretta. Grazie.